Dottoressa Maletti, l'insediamento oggi del gruppo di pilotaggio sui sani stili di vita nel programma territoriale comunicazione e promozione della salute? Sì, come definito dalla conferenza territoriale sociosanitaria nella riunione del 20 maggio 2011, oggi è stato istituito questo gruppo di pilotaggio formato dall'assessore provinciale e dagli assessori al welfare e alla sanità dei sette comuni capi distretto di questa provincia proprio per coordinare insieme all'azienda USL che ne è il referente tecnico appunto tutti i programmi e tutte le iniziative che verranno fatte sui sani stili di vita in questa provincia. Quindi la promozione della salute con gli indirizzi degli enti locali? Certo, sugli stili di vita ci sono tutto un insieme di programmi e di norme sia nazionali ma soprattutto regionali, però questo è il livello provinciale nel quale si fa sintesi sia delle azioni messe in campo dall'azienda USL nei vari territori, oltre che dai programmi provinciali, ma anche da quella maria di iniziative fatte dal volontariato e anche dagli enti locali che rischiano di essere un po' parallele l'una con l'altra e per cui questo è il luogo dove viene fatta sintesi tra le varie iniziative. Non solo la salute ma una interseccionalità che coinvolge tutti i settori dunque? Certo, se noi parliamo di salute, di salestini di vita non si può parlare solo di sanità o solo di sociale, ma vuol dire un benessere sui nostri territori e questo vuol dire la sinergia di tutte le politiche messe in campo.